Gregorio, una serie di dati che fanno nella Lombardia uno dei premiati mondiali in termini soprattutto di economia. Quello che si si è dimenticati spesso o forse volutamente di voler ricordare sono le condizioni di povertà nel quale versano circa un milione di famiglie lombarde, la situazione disperata di moltissimi imprenditori lombardi, il primato relativo all'emigrazione giornalista, che non è un'emigrazione diciamo così tra virgolette povera, ma fondamentalmente di giovani qualificati preparati che se ne vanno non perché decidono di farlo spontaneamente ma perché sono costretti dalla situazione nella quale si trova l'economia della nostra regione. Ecco, la nostra attenzione sarà rivolta principalmente a queste realtà, a queste condizioni di povertà incipiente, di disagio, di difficoltà. Abbiamo motivo di essere orgogliosi di questa regione ma non possiamo dimenticare chi in questa regione fa i conti tutti i giorni con un costo della vita che è il più alto in Italia. Bravo Giulio! Grazie mille!